Si sta per inaugurare allo Scialmi Santa Fosca, il pieno centro storico a Venezia, una nuova esposizione del progetto Art Ambassador, organizzato dalla DEM International Wainser Gallery. All'interno di questa mostra troviamo le opere di José Agustín Delgado Padilla, autore spagnolo, quindi ancora un altro autore che contribuisce ad aumentare l'internazionalità di questa mostra. Che cosa vediamo qua? Vediamo un'opera particolare, acrilico su legno innanzitutto, quindi una resa leggermente diversa rispetto all'acrilico su tela perché i colori rispondono in una maniera differente. L'opera ha un titolo particolare, Ciacca, e i colori creano l'opera stessa, quindi sono i colori, queste gradazioni di rosso in primo piano, che sembrano appunto dialogare con altre gradazioni di verde e altri toni gialli, a creare una sorta di amalgama che dona una visione equilibrata di questo colore, e questo colore tutto assieme dà appunto il senso dell'opera. È quindi un'opera, un lavoro molto attento, nel quale si vede la capacità dell'artista nel saper dosare le varie parti di pigmento, creando un equilibrio formale e un equilibrio intellettuale che garantiscono all'opera una perfetta rappresentazione iconografica. Quindi una pittura sì dal tratto antico, ma al contempo una pittura che ci restituisce una contemporanea visione. Chiaramente l'opera è una rappresentazione interiore e personale dell'artista, e siamo noi che osservandola riusciamo a trarvi la nostra dimensione, la nostra idea. Sicuramente l'osservatore quando la gusterà con gli occhi non potrà che non rimanerne affascinato, appunto perché l'equilibrio formale raggiunto da queste gradazioni di toni, di vari colori, è veramente molto intenso ed emotivo. Altra opera dell'artista spagnolo José Agustín Delgado Padilla si intitola Velocità. Un'opera, anche questa simbolica, interpretata sul piano prettamente soggettivo da parte dell'artista, ma a differenza dell'altra, qui c'è una dimensione diversa in quanto sono rappresentati, quasi con un disegno che richiama una sorta di corrente infantilistica, delle macchine, dei semafori, delle strane macchine che si muovono, con delle scritte, con dei numeri, quindi un'opera che mette insieme immagini, calligrafia dal punto di vista delle scritture, dal punto di vista dei numeri. Quindi un'opera composita, simbolica, ma che si riesce a comprendere, si riesce a captare appunto il senso della velocità o perlomeno si riesce a captare che stiamo così parlando di un qualcosa che ha a che fare con la strada, con la comunicazione, con la viabilità. E quindi è un'opera interpretata, ma che piacevole anche da vedere, che ci colpisce e è di facile intuizione. Quindi è sì una rappresentazione simbolica, ma questo simbolo diventa quasi colloquiale. È un'opera che ci induce a riflettere sia sulla frenesia contemporanea, alla velocità del mondo contemporaneo, sia anche sull'aspetto negativo, appunto i morti dovuti alla frenesia contemporanea nella sfattispecie della velocità della circolazione. Grazie a tutti.